la nostra scena composta da tre primitive solide ha già applicato per due di questi solidi dei materiali, il cubo e la sfera come si può vedere la sfera è in primo piano verde e ha una rugosità evidente facciamo un render qualità bassa per velocizzare e quindi vediamo come sia la sfera che il cubo hanno un materiale applicato ora applichiamo un materiale anche al cilindro e al cilindro applichiamo un materiale un po' più complesso come il legno selezioniamo materiali composizione quindi ON per attivare l'applicazione e la visualizzazione dei materiali selezioniamo il cilindro e al cilindro andiamo a verificare in legno applichiamo il noce americano una volta selezionato il cilindro, noce, destro, assegna, selezione il noce viene applicato al cilindro e ovviamente viene anche inserito nella nostra palette dei materiali facciamo uno zoom e facciamo un render ci siamo già accorti però che effettivamente il materiale è applicato in maniera errata quindi se ci sono delle venature in verticale non possono essere anche in orizzontale dobbiamo creare un mappaggio, cioè definire il mappaggio cilindrico selezioniamo il cilindro diamo invio verifichiamo come il mappaggio applicato ad esso sia errato vediamo di fare una rotazione ruota attorno all'asse rosso X di 90 gradi possiamo sia selezionare che dare con il mouse invio confermiamo perfetto la scala non è precisa come pure questo facciamo quindi ruotare le texture, il materiale con ruota in maniera da trovare l'orientamento che ci piace invio definiamo una scala o meglio troviamo la scala corretta ad esempio 50 vediamo il risultato 50 è decisamente troppo elevata abbassiamo quindi la scala anche qua si tratta di trovare sempre in modo empirico anche sperimentale il risultato migliore e vediamo con 3 effettivamente il legno quindi il nostro oggetto ha effettivamente la venatura giusta corretta in scala corretta del legno vediamo di aumentare la rugosità quindi noi abbiamo selezionato come rugosità questo che è la stessa texture di base quindi del noce americano solo che è in bianco e nero ed ha un'estensione BMP come si può vedere Bump sempre al JPEG però è distinta come BMP aumentiamo a 22 la rugosità e vediamo ok quindi vediamo adesso un rendere finale di alta qualità e vediamo il risultato con tutti i nostri solidi primitivi e solide con materiale applicato quindi con del texture questo è il risultato finale